ben ritrovati di nuovo su review oggi vado a recensire insieme a voi questi cinturini per apple watch serie 1 2 3 4 5 38 40 42 44 mm in silicone acquistati su amazon ad un prezzo irrisorio link in descrizione andiamo a vederli insieme arrivano innanzitutto all'interno di queste bustine di plastica confezionati come vedete sono di una misura diversa semplicemente perché potete scegliere oltre al colore quindi tra grigio acqua marina giallo rosa bianco rosso vino viola grigio e nero questo è rosa e nero oltre al colore potete anche scegliere la misura quindi potete scegliere 38 mm 40 mm un s 1 m oppure un m o la l oppure per il 42 44 mm potete scegliere sempre una sm oppure un ml come vedete qua abbiamo una sm mentre qua abbiamo una ml ovviamente dovete misurare il vostro polso e capire quale più si adatta in base alla misura ma se cliccate i link in descrizione trovate tutte le informazioni e tutti i colori quindi potete anche scegliere quello che più vi piace come vedete un silicone davvero morbido il cinturino la fibia anzi è in un diciamo metallo argentato molto bello al tatto piacevole e va veramente bene adesso questi qua l'ho presi per il serie 5 devo dire che va veramente bene una volta che lo si mette sul sull'orologio sull'apple watch principale come vedete abbiamo un serie s 5 da 40 mm non so se mette a fuoco e sono andato a posizionarli appunto e adesso vi faccio vedere come stanno vi faccio vedere anche quello nero tra l'altro comodo il fatto che si fa poi passare alla fine il cinturino qua dentro nella fessura e si bloccano veramente in modo perfetto sono andato a infilare la prima parte del cinturino come vedete è ben saldo solido ed è veramente facile inserirlo praticamente si schiaccia questo pulsantino e si va a inserire e non si muove e perfetto stabilissimo andiamo a mettere anche quest'altro schiacciamo il bottone così non trova una istruzione e lo lasciamo come vedete anche qua è ben solido ben saldo e questo è il risultato e questo è il risultato lo faccio vedere abbiamo un cinturino veramente bello che si adatta a qualsiasi misura nel vostro polso selezionando la taglia è di una buona qualità link in descrizione per acquistare il prodotto se avete qualche domanda non esitate a polvola alla prossima review grazie